10 5 4 3 2 1 vai 10 pieghe a destra 50 al muro a destra 2 sale 2 sale 20 sinistra 2 più 100 destri ritardo a destra 3 meno ritardo a destra 3 meno per sinistra 5 lunga diventa tornante sinistro sale alla casa 10 destra 4 lunga 2 tempi 30 sfera sinistra per destra 4 20 sinistra 3 meno sinistra 3 meno 20 ritardo a inversione destra leva sfiora sinistra 20 sinistra 2 2 30 destra 3 20 destra 5 per sinistra 4 meno non tagliare in destra 4 10 sinistra 5 lunga sporca vai 100 al muro destra 4 per sinistra 4 più destra 4 per sinistra 4 più al muro destra 4 meno per sinistra 5 30 sinistra 5 vai 80 destra 4 per sinistra 4 50 destri attenzione sinistra 2 attenzione sinistra 2 80 ritardo a inversione destra leva inversione destra leva 200 destra 3 in sinistra 5 destra 3 in sinistra 5 vai 100 sinistra piena per destra piena diventa 4 meno meno attenzione per destra 4 50 destra 4 50 piega sinistra per piega destra 20 attenzione sinistra 2 gira sinistra 2 gira per destra piena in sinistra 4 in destra 4 in sinistra 5 attenzione stacca destra 1 stacca destra 1 20 sinistra 3 gira vai 100 tieni sinistra accenno sinistro per destra 2 gira 2 gira vai 80 sinistra 3 più 3 più 30 destra 5 più vai 200 tieni sinistra per destra 5 meno destra 5 meno e sinistra 2 per destra 4 sale sinistra 2 per destra 4 sale 40 sfera sinistra su dossetto per destra 5 in sinistra 4 20 attenzione sinistra 2 gira 2 gira 20 a rail destra 3 vai 20 sinistra 4 meno per destra 4 per sinistra 5 lunga lunga per destra 6 sale dosso dritto 20 destra 5 al palo chiude 4 lunga 20 sinistra 5 20 al dosso attenzione tieni destra in sinistra 2 pallone vai 200 destri sinistra 6 vai 200 destra 5 per attenzione sinistra 3 occhio stringe sinistra 3 occhio stringe 50 destra 4 più vai 100 sinistra 3 diventa 2 3 diventa 2 per attenzione destra 1 balle 20 destra 3 per sinistra 5 lunga lunga tieni per destra 4 tieni destra e stacca per sinistra 2 balle 2 balle 300 attenzione stacca per sinistra 2 stacca sinistra 2 100 destri attenzione inversione a destra leva inversione a destra leva 100 attenzione sinistra 3 suddosso 80 destra 2 20 sinistra sinistra 2 40 destra 4 o meno 20 destra 6 vai 100 attenzione attenzione destra 3 destra 3 per attenzione attenzione sinistra 4 sporca addosso per destra 2 2 tempi addosso per destra 2 2 tempi per sinistra 4 lunga per attenzione destra 3 meno 3 meno 150 destra 4 più per sinistra 5 vai 80 destra 5 per sinistra 3 meno 3 meno 50 attenzione Shigana è entrata da sinistra 100 destra 4 per sinistra 5 lunga tieni sfiora sfiora destra e sinistra per attenzione stacca per inversione destra stacca inversione destra sinistra 6 100 destra 5 in sinistra 5 meno 20 destra 5 20 attenzione sinistra 2 attenzione sinistra 2 20 200 scusa all'albero destra 5 lunga 150 attenzione stacca per destra 2 sporca stacca destra 2 sporca per destra 4 va benissimo destra 4 in sfiora sinistra 50 alla pianta sinistra 2 alla pianta sinistra 2 50 destra 4 20 sinistra 3 5 diventa 3 40 inversione destra leva inversione destra leva 20 destra piena 150 destra 4 condosso 100 sinistra 5 meno meno per destra 5 in sinistra 5 20 destra 4 in sinistra 5 20 destra 5 dossata in sinistra 5 scende 80 a rail destra 4 in sinistra 3 diventa 1 sporca scivola sinistra 3 diventa 1 sporca scivola 20 sporca scivola destra piena per sinistra piena 80 a rail destra 4 destra 4 per sinistra piena lunga sale a rail destra 4 meno destra 4 meno 80 destri 1 2 ok 7 57 bravo sono andato un po' meglio eh si vabbè riesco a capire un po' meglio e il pilota fugge 1 1 1 1 2 1